Noi siamo convinti che il Mezzogiorno, per tutto l'immenso patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico, agroalimentare, folclorico di cui dispone, ma soprattutto per i suoi stili di vita a dimensione umana, abbia in sé tutte le risposte rispetto a quelli che sono i drammi generati da un certo modo di intendere la globalizzazione. E queste cose vogliamo gridarle senz'altro alla Calabria, senz'altro al Mezzogiorno d'Italia e soprattutto al mondo intero, perché il Mezzogiorno d'Italia può, potrebbe e dovrebbe riacquistare quella centralità assoluta mondiale che ha avuto in molti secoli della sua storia e soprattutto in quella fase splendida della Magna Grecia. E' in Magna Grecia che l'umanità ha iniziato a pensare, che ha sviluppato grazie soprattutto alla scuola pitagorica i concetti di armonia, di equilibrio universale, di mens sana in corpore sano, di attenzione al corpo e alla mente al contempo, di amore per il sapere, di amore per l'arte, di amore per la cultura, per la musica e anche di capacità attraverso la speculazione scientifica di dare risposte ai misteri dell'umanità, ai misteri dell'universo. Vogliamo riappropriarci con Magna Grecia Lifestyle di questo immenso patrimonio, gridarlo al mondo e proporlo come modello di sviluppo per un mezzogiorno che troppo spesso è stato preda di lobby e di politicume della peggiore specie, rispetto al quale, e da qui il nostro sostegno alla magistratura, rispetto al quale la magistratura può continuare a dare risposte importanti. Li devono azzerare perché vedete il mezzogiorno è fatto in modo, soprattutto la Calabria, che la società civile non riesce ad avere tutti gli anticorpi e tutti gli antidoti che sono necessari per liberarsi di questo cancro. È un cancro che distrugge le nuove generazioni, che ha distrutto il passato, che rischia di distruggere non solo il presente ma anche il futuro. Ce lo spiegano le tante inchieste a cui abbiamo già fatto cenno nella prima parte della trasmissione. A queste lobby avide, a questi gruppuscoli di politicume nauseabondo e oleoso, che riesce a pensare solo in termini di mentalità feudale, gretta, meschina, che non ha visione, che distrugge le vere risorse della nostra società, che non riesce ad accettare il concetto di meritocrazia, il concetto di competenza. L'unico concetto che riesce a sviluppare è quello di dire sei con me, sei contro di me. L'unico concetto che riesce a sviluppare è quello dell'appartenenza, ma dell'appartenenza non critica, è un'appartenenza ripeto di tipo feudale, rispetto alla quale la magistratura può continuare a darci un aiuto importante, perché ci deve aiutare a liberare da questo mostro che ha tante teste e che svolge una funzione veramente nefasta. Perché il mezzogiorno da solo non riesce a reagire, la società civile da sola? Ci sono forme da un lato di indolenza, siamo anche una civiltà molto antica, ne abbiamo viste di cotte e di crude nel corso dei millenni, non sempre il coraggio civile è stato premiato. Pensiamo alla storia del mezzogiorno, a coloro i quali si sono esposti, che hanno messo il petto in avanti, che pensavano che un moto rivoluzionario potesse finalmente dare le risposte cercate. Quante delusioni, quanti morti, quanto sangue, e quante sofferenze. Dall'altro lato vedete queste lobby cui facciamo cenno, questi apparati di politicume nauseabondo dispongono di risorse, dispongono anche di risorse finanziarie importanti, fanno questo tra virgolette lavoro 24 ore su 24, si possono circondare di clienti perché danno posti di lavoro, offrono consulenze, offrono incarichi, ti danno l'opportunità di inserirti in alcuni circuiti, sono nei gagli del potere, condizionano anche i poteri forti spesso ad ogni livello e quindi il mezzogiorno si trova in una situazione in cui ha enormi potenzialità, ha i tesori più ricchi e più vasti, però si confronta con una realtà così negativa che vede molti degli indicatori macroeconomici con il pollice verso. Pensiamo soltanto a questo fenomeno drammatico, assurdo della disoccupazione, della disoccupazione soprattutto giovanile e quindi una società disorientata che da sola non riesce a mettersi in moto. Abbiamo bisogno oggi più che mai dell'azione incisiva della magistratura che riesca a liberarci di questi feudi piccoli o più o meno grandi che sono il male assoluto nel mezzogiorno e anche in Calabria.